Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog flash Succedono tutte a me, succedono tutte a me, sì avete capito bene Non ho ancora bevuto il caffè, la macchinetta del caffè, forse il macinino, forse sì il macinino è rotto Sto sclerando perché appena mi sveglio devo bere il mio bel caffè e non so quanto tempo devo aspettare Quindi sono curioso, succedono tutte a me, mannaggia, mannaggia, mannaggia Logicamente non è colpa loro però adesso devo aspettare altrimenti devo cambiare bar, per forza Bene ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo vlog flash, mi raccomando rimanete sintonizzati su tutti i social Ciao, 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 ciao